La storia tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez continua a sorprenderci giorno dopo giorno, ma finalmente sembra essere arrivata l'occasione giusta per fugare tutti i dubbi. Cecilia Rodriguez, due settimane fa, è stata eliminata dal grande fratello Vip. Dopo essere uscita dalla casa più spiata d'Italia, quando le è stato chiesto di fare chiarezza sulla questione dell'armadio dalla conduttrice Hillary Blasi, la modella argentina ha sminuito il tutto, accusando i telespettatori di aver riscontrato una malizia che non c'era. Difatti la sorella di Belen ha più volte dichiarato che nell'armadio tra lei e il tenebroso ex ciclista ci sono stati solo dei baci dolcissimi, lasciando chiaramente intendere che sarebbe stato innalzato un polverone fuori luogo, anche se qualcuno ha smentito la tesi della giovane Keku. Lunedì scorso anche Ignazio Moser è uscito dal reality, con il ragazzo che finalmente ha potuto rivedere la sua compagna, anche se per la gioia di ritrovarsela accanto gli è scappata una gaff notata da tutti. Dopo l'eliminazione, il giovane è entrato nello studio di Cinecittà, e Alfonso Signorini ha posto la fatidica domanda all'ex ciclista, ovvero la stessa che aveva rivolto alla Rodriguez, purtroppo le versioni dei due ragazzi sono diverse ecco perché. Parole diverse e imbarazzo palese, ecco cos'è successo. Alfonso Signorini, uomo furbo e abile oratore, ha chiesto dei chiarimenti anche al giovane Moser riguardo la vicenda dell'armadio, Diversamente dalla sua compagna, Ignazio ha aggiunto un particolare che sembra aver sbalordito tutti. Infatti ha ammesso che in un primo momento l'intenzione della coppia era quella che avevano pensato i telespettatori quando sono state mandate in onda le immagini, ma alla fine il gesto non si è concretizzato. Cecilia, imbarazzata per le parole del fidanzato, ha replicato facendogli capire non solo di averla messa in difficoltà, ma ricordandogli anche che tra di loro c'erano stati soltanto dei baci. Finalmente la verità sembra essere venuta a galla video ora i due ragazzi, terminata l'esperienza al reality show, potranno viversi la loro storia lontani dalle telecamere, nonostante le numerose critiche che sono piovute su di loro. La decisione di Cecilia Rodriguez appena uscita dalla casa del grande fratello VIP, Cecilia Rodriguez ha avuto un confronto con Francesco Monte, a quanto pare, i due giovani hanno chiuso definitivamente qualsiasi tipo di rapporto video, con che Cucca avrebbe confermato all'ex fidanzato di essere innamorata del giovane Ignazio. Il tempo ci darà le dovute dimostrazioni. Intanto, ormai manca meno di una settimana alla finale del popolare reality show, e tutti sono curiosi di sapere chi sarà il vincitore, Cecilia Ignazio.